Dentro per Caturano! Potenza avanti con Salvatore Caturano al volo! Ottimo lavoro di di grazia sulla corsia di sinistra, gli hanno lasciato forse anche un po' troppo campo. Caturano perfetto nell'aggressione di questo pallone per portare in vantaggio il Potenza con il primo gol della sua stagione. Togliendosi di dosso anche la polvere del rigore sbagliato contro la Gelbison e l'abbraccio poi col direttore sportivo Barrà che oggi è in panchina, Siviglia squalificato.